Abbiamo bisogno di far comprendere alle istituzioni, al governo e alla città che c'è un grosso problema che riguarda il Mose, un problema a breve termine. Il problema riguarda i lavoratori di Tetis, del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, in difficoltà a causa dei lavori del Mose fermi da tempo. Per questo, alla luce di un incontro con i sindacati, hanno deciso di dare un segnale forte. Abbiamo proclamato quattro ore di sciopero in concomitanza della prima prova di sollevamento delle paratoie. Lo facciamo per due motivi. Il primo è perché i lavoratori sono interessati ad esempio a un mancato pagamento degli stipendi, anche per due mesi in alcune aziende. Si sta parlando di cassa integrazione, sono già stati avviati delle fermate del lavoro attraverso cassa integrazione FIS, ma nello stesso tempo non c'è una visione futura in merito all'autorità e al destino e al futuro occupazionale per questi 260 lavoratori delle tre società, ai quali va anche aggiunto il problema di tutti quei lavoratori interessati nelle opere nell'indotto, pari a circa 1.500 lavoratori, che in questo momento, nonostante i finanziamenti stabiliti dal governo e che sono arrivati, i cantieri sono ancora fermi. Lavoratori, tra l'altro, non facilmente sostituibili, viste le conoscenze specifiche in materia. Chiediamo da un lato la soluzione dei problemi immediati e quindi il pagamento degli stipendi e la certezza che riprendano i lavori del MOSE e dall'altro tempi e modi per la conclusione dei lavori e per la costituzione dell'autorità per la laguna e della società in house, che è collegata all'autorità per la laguna. È l'autorità che deve occuparsi dell'intera salvaguardia della laguna di Venezia e quindi da questo punto di vista è anche fondamentale per la stessa salvaguardia della città. Abbiamo già fatto un incontro con la regione, in questi giorni stiamo chiedendo l'incontro anche al comune, proprio perché crediamo che il tema dell'autorità non sia un tema che riguardi solo i lavoratori che vi sono occupati, ma riguardi l'intera città e quindi le istituzioni della città stessa. Riteniamo che quest'opera vada conclusa, quest'opera debba essere funzionante per il bene della città, per la salvaguardia della laguna, ma perché questo possa avvenire è necessario che tutte le persone che lavorano vengano retribuite regolarmente perché solo così potremo avere la certezza che i lavori andranno avanti, che i lavori termineranno e che l'opera funzionerà. Grazie.